Cooperazione Salute è la mutua di confcooperative nata per operare esclusivamente a favore delle cooperative aderenti a confcooperative. Cooperazione Salute propone attraverso piani sanitari una copertura di assistenza sanitaria integrativa a favore dei soci, lavoratori e non, ma non solo. Cooperazione Salute propone anche dei piani ad adesione volontaria che sono migliorativi rispetto a quelli contrattuali e sono a favore di categorie omogenee, ad esempio gli amministratori dei consigli di amministrazione. Cov Cooperative ha voluto costruire per i suoi associati un'offerta di assistenza sanitaria integrativa che porta valore sia alle cooperative sia da un incremento sul benessere dei lavoratori e dei soci.